permesso scusate ah un amaro ramazzotti dopo cena non c'è niente di meglio beh un amaro ramazzotti non si rifiuta mai il mio digestivo preferito dai muoviamoci facciamo qualcosa ma volentieri andiamo al cistro si si andiamo ma con una serata così e una sciarpa come questa come si fa a non uscire e voi? ma cosa fate in casa? venite fuori c'è tutta la serata davanti io vado amaro ramazzotti il segreto il segreto è nelle erbe e buona serata dopo cena amaro ramazzotti